Dai Pina, è ora. Facciamo il lancio della moneta? E facciamo sto lancio. Allora, testa o croce? Testa. Mi sa che ti tocca. Lo sapevo. Senti, io punterei quello lì con gli occhiali. Mi hanno detto che gli astigmatici sono un po' più affabili, tipo del 30%. Che dici? Brava, dai, dai. Allora vado. Vai, vai, vai. Guardami, eh. Sono con te, vai. Tanto che aspetti? Ma sarà cinque minuti più o meno. Uh, cinque minuti. Le volte sembra una vita. Eh, sì. Beh, io comunque sono Pina, ciao. Andrea, piacere. Ciao, Andrea. Oh, che è tardi. Non so se ho tempo di aspettare. Vado a piedi. Vado a piedi. Allora, ciao, eh. A presto. Ciao, Andrea. Ciao, Pina. Bravissima. Com'è andata? Ma io e Andrea, migliori amici. Guarda, affabilissimo. Solo che mi devo segnare il nome perché altrimenti non me lo ricordo. Come si chiama? Andrea. Top. Da 25. Allora, oggi voglio proprio spezzarne la lancia a tuo favore. Sei stata bravissima. Meno di quattro minuti per stringere una nuova amicizia. Record. Non so, però comincio a accusare. Mi mancano un po' gli amici su Facebook. Ma non posso dare un'occhiatina ai social. Alle notifiche, basta. Un attimino. Non si può. Abbiamo dato parola. Non si può fare. Non se ne accorgono. Siamo filmati. Non si può. Allora, non si può fare. Non si può. Ti prego, Diago. Un minutino. Allora, Pina, esci da questo corpo e resisti. Ce la faremo. Dammi la mano. Oggi è già domani. Speriamo. 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 Speriamo.